Sono Ado Shimmya, sono Ado Shimmya, noi andiamo a visitare a Noia monumenti storici Vietnam che si trova nella città. Certo. Sono Ado Shimmya, era bello. Ci sono paesaggio. Certo. Eccoci qua, siamo arrivati a Noia monumenti storici Vietnam che si trova nella città. Oh my god. Non c'è bisogno di aiuti di dare mai più. Se tu lo provi ti torno in Italia. Scusami, sono Ado Shimmya. Sono Ado Shimmya, sono Ado Shimmya. Posso fare la foto a Noia monumenti storici Vietnam che si trova nella città. E va bene Shimmya, fai la foto. Grazie. Grazie, sono Ado Shimmya. Prego. Check. Fai a vederlo. Mmm, è brutta. Check. Fai a vederlo. Ecco fatto. Ha fatto la foto a Noia monumenti storici Vietnam. Certo. Torniamo in Italia. Torniamo in Italia Shimmya. Ok. Mi è piaciuto visitare a Noia monumenti storici Vietnam che si trova nella città. Certo. Si esplode? Ma che cosa sta suc... Ma che cosa sta succedendo? Oddio. O cielo, si esplod... Mi ha fatto... Mi ha fatto esplodere... Mi ha fatto esplodere questa mante Shimmya. Devo chiamare l'ospedale. Sbrigatevi. A Noia monumenti storici Vietnam. Oh.